Grande esordio per Davide Paruzza, che è il nuovo ingresso sul quale l'audaceo Savoia conta molto per continuare la sua travolgente avanzata in campionato. Davide oggi è esordito e quindi ti chiediamo un tuo parere. Sicuramente sono contento perché era tanto che non giocavo e quindi mi ha fatto piacere ritrovare il campo. La squadra valla grande, quindi è normale che per inserirsi c'è bisogno di tempo perché gli altri ragazzi sono molto bravi. Oggi la partita valla da sé, il risultato. Abbiamo fatto una grande partita, ho giocato bene. Il risultato penso che rispecchia quello che abbiamo dimostrato. Davide, un'altra domanda. Entrando nella squadra di Audaceo Savoia hai conosciuto anche il nostro programma Talento e Tenacia e lo trovi, penso, insomma, come lo hai trovato? Una novità, un'eccezione? Che tipo di impressione hai? Sicuramente è raro trovare una società che fa questo tipo di iniziative e io sono contentissimo di farne parte e proprio grazie a Silo Savoia riuscirò a diplomarmi. Questo mi fa veramente piacere. Ringrazio il Presidente, ringrazio tutta la natura. Grazie Davide, buona domenica.